Appuntamenti in agenda per venerdì 21 luglio. Zoagli ospita il tour nazionale Borgo Food 2023. Alle 11.30 in piazza 27 dicembre i ristoratori prepareranno piatti e bevande della tradizione locale a cura dell'associazione Cuochi Master. Sagra dei Pansoti a Bogliasco. Gli stand apriranno alle 19 in piazza 26 aprile. Da via Marconi ci sarà anche un servizio navetta gratuito. Trentesima Sagra della Caponadda organizzata dagli uomini del Ruinà in piazza San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza l'inizio alle 19.00. Serata enogastronomica nell'area verde Pertini a Conscienti di Ne. Alle 19.30 la cena con i menù dei ristoratori e degli agriturismi della Valle. Alle 21.30 musica con l'orchestra Icaravell. Alle 19.30 nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo si terrà la veglia Morire di Speranza, preghiera in memoria di chi ha perso la vita in mare nei viaggi verso l'Europa. Alle 19.30 ai bagni Aldebaran di Cavi di Lavagna sarà presentato il docufilm La vera vittoria che racconta la storia di quattro persone con disabilità, un progetto promosso dal Panatron. Sarà offerta una pericena accompagnata da DJ set. Festa di Sant'Anna al sestiere Cappelletta di Rapallo. Alle 20.00 l'apertura degli stand, poi ballo con l'orchestra Sandro. Tela do io l'America, alle 20.30 a Villa Sottanis di Casarza Ligure, la giornalista e guida letteraria Marta Ciccolari-Micaldi racconterà la cultura nordamericana. A Borzonasca c'è la festa della birra, appuntamento alle 21.00 nella piazza dietro al comune, musica con i surfing beaches e DJ Kelly. Prende il via a Lavagna Festival Art, alle 21.00 in piazza Marconi, notte d'incanto con il performer di pittura Ido accompagnato da un concerto di musica classica. Alle 21.15 all'oratorio di Sant'Erasmo a Sori, concerto al pianoforte di Flavio Tozzi, l'ingresso è libero. Sempre alle 21.15, ma in piazza Nicoloso a Recco, approda la nave Fantasma, giocolieri, maghi e funamboli per una serata dedicata ai più piccoli. Visita le antiche mura di Chiavari e al museo archeologico, il ritrovo alle 20.30 davanti a Palazzo Rocca, il percorso sarà guidato da Barbara Bernabò. Prosegue la rassegna sotto il campanile invece a San Michele di Pagana a Rapallo, alle 21.30 Margherita Ogero presenterà il suo nuovo libro, Brava Gente. Barbie è il film di Greta Gerwig che sarà proiettato sul lungomare di Pegli, in stile silent cinema con le cuffie. L'inizio alle 21.30, alla stessa ora si potrà vedere lo stesso film anche all'Arena Conchiglia di Sesti Levante. E infine, concerto dei liberi suonatori della Val di Magra alle 21.30 in piazza Fieschi a Varese Ligure, canti e balli delle valli Vara e Magra e altre tradizioni locali. Grazie a tutti.